come parassini i rimpianti corrodono la nostra mente fai attenzione ai rimpianti quando continuamente ripensi a ciò che è stato dicendoti che non si è andato bene che avresti potuto fare scelte diverse che avresti potuto vivere diversamente lascia stare questo lascia stare i rimpianti perché i rimpianti ci legano al passato perché i rimpianti corrodono il presente i rimpianti corrodono la nostra mente vedi un conto è analizzare ciò che è stato prenderlo in seria considerazione ricordare per cercare di capire come poter agire diversamente per cercare di capire quanto alcune scelte che abbiamo fatto nella vita hanno portato alcuni esiti o altri ecco utilizzare il passato come uno storico dal quale attingere informazioni per decidere come vivere meglio il presente è una grande attitudine una grande qualità ma vedi questo è saggezza questo è utile diverso è rimpiangere diverso è appunto iniziare a ripensare a quanto è stato e poi dirsi che abbiamo sbagliato che non siamo andati bene giudicarci condannarci a volte dandoci anche delle punizioni a volte anche infliggendoci dolore flagellandoci punendoci questo a mio avviso è inutile è assolutamente insensato non serva nulla perché vedi le scelte che tu puoi avere fatto anche sbagliate se vogliamo intendere questo concetto di sbagliato quindi che magari hanno dato esiti che non rappresentano ciò che invece potevi in qualche modo desiderare ecco l'hai fatto se hai fatto queste scelte l'hai fatto perché in quel momento non potevi fare nulla di diverso perché in quel momento se hai fatto quella scelta è perché le conclusioni alle quali sei arrivato o le circostanze nelle quali ti trovavi ti hanno portato inevitabilmente a fare quella scelta perché sennò avresti fatto una scelta diversa ovviamente il fatto di aver vissuto poi delle conseguenze in relazione a quella scelta quelle situazioni a quelle cose accadute ti ha fatto fare delle esperienze ti ha fatto crescere ti ha fatto maturare delle consapevolezze diverse ti ha portato oggi a dire avrei potuto fare diversamente bene ma allora ecco che questa informazione questa conoscenza questa esperienza che io oggi o grazie a quelli che sono gli errori gli sbagli che possa aver compiuto nel passato sono qualcosa di prezioso sono qualcosa di utile sono qualcosa di importante e non sono qualcosa che io devo usare per flagellarmi per farmi del male ma per crescere accettando che la vita sia un processo evolutivo continuo nel quale nella maggior parte dei casi non siamo consapevoli ma sai quante cose che ancora non conosciamo di cui non sappiamo praticamente nulla di cosa è composta la materia di cosa è composta l'anima di cosa siamo realmente ma ci sono una marea di conoscenze nei tantissimi ambiti del sapere che non abbiamo quindi ci sono tantissime cose delle quali non siamo ancora consapevoli alcune le stiamo conoscendo di alcune stiamo riuscendo ad avere sempre più cognizione quindi anche poi una consapevolezza ma ci sono un'infinità di cose che non sappiamo allora la vita è un processo di apprendimento di crescita di consapevolezza di trasformazione evolutivo e in questo darsi delle pene per gli errori che possiamo aver compiuti non ha senso anche far finta di non averne compiuti pensare che va bene così non smettersi mai in discussione chiaramente è l'eccesso opposto e anche questo non avrebbe alcun senso ma il giusto approccio verso il passato a mio avviso dovrebbe essere quello di appunto non continuamente appunto stare a ripensare a quanto accaduto ruminare su quello che è stato e quindi generare questo stato di sofferenza legandoci al passato impedendoci di vivere il presente dovrebbe essere semplicemente quello di raccogliere la nostra storia esplorarla conoscerla affrontarla ricordare anche le difficoltà che abbiamo vissuto riuscire ad avere una prospettiva complessa articolata di quello che è stato di ciò che ci ha portato a fare magari quelle scelte per le quali ancora magari ci condanniamo e semplicemente grazie a questa conoscenza andare a superare appunto il giudizio la condanna e riuscire semplicemente a vedere il processo di crescita magari riuscendo anche a cogliere quella prospettiva teleologica che ha un fine quella prospettiva che in qualche modo ci dà una dimensione di quello che è il percorso di apprendimento di crescita che stiamo vivendo che stiamo affrontando che stiamo sperimentando ecco riuscire a fare questo riuscire a quindi a cogliere quello che è stato la nostra storia il nostro passato riuscire a rielaborarlo e comprendono nella sua complessità cogliendo anche la prospettiva teleologica del delfine che stiamo vivendo ecco che questo ci aiuta davvero a liberarci del passato comprendendolo comprendendolo riuscendo a rielaborarlo riesco anche a lasciarlo andare riesco a superare i pentimenti riesco a superare i rimpianti e riesco ad utilizzare invece quell'esperienza acquisita per migliorarmi per crescere per trasformarmi vedi il passato è andato il futuro incerto l'unica cosa che esiste è il presente e se io nel presente anziché appunto riempire la vita di rimpianti o sofferenze rispetto a ciò che è stato riesco a usare l'esperienza per migliorarmi per crescere consapevole di essere all'interno di un processo evolutivo che non pretende che io sia già arrivato alla totalità della conoscenza dell'esistenza cosa che chissà quando mai accadrà e se mai accadrà ma è un processo evolutivo nel quale semplicemente sono così sono all'interno di questo flusso e all'interno di esso apprendo cresco ecco se riesco ad accettare questo riconoscerlo e a vedere questo flusso ricogliendo appunto anche questa prospettiva teleologica che ti dicevo allora ecco che allora posso davvero riuscire a vivere con pienezza il presente cercando sempre più di di migliorarmi di crescere di vivere sempre più in armonia in espansione della mia stessa consapevolezza e allora ecco che questo può davvero aiutarci a sentirci meglio sentirci più sereni ea liberare la nostra mente dai parassiti del del rimpianto della pena del giudizio